le stelle di azus benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di azus l'oroscopo di martedì 26 luglio ariete i problemi portati da marte riguardano soprattutto la famiglia ma con la luna di oggi potete riallacciare rapporti che si erano raffreddati parecchio toro una situazione astrale importante marte in una posizione stimolante vi sentite in forma carichi di energia e buoni propositi gemelli il settore patrimoniale in fermento attenti a non esagerare con le spese l'amore continua ad essere emozionante nascono nuove storie cancro una bella luna che annuncia nuove conoscenze e notizie in arrivo buoni rapporti con le persone vicine marte infiamma il rapporto di coppia leone con la situazione venutasi a creare nello zodiaco siete uno dei segni più brillanti in questo periodo il lavoro sembra andare a gonfie vele e fate parlare i sentimenti vergine marte e luna vi regaleranno una giornata molto interessante in cui potrete aspettarvi delle sorprese dagli amici e dal partner evitate di essere troppo pignoli bilancia la luna difficile per tutto il giorno vi consiglia di evitare impegni stressanti concedetevi qualche piacere extra e cercate di stare con il partner scorpione una luna bellissima parla di viaggi di contatti con persone lontane anche venere promette affari d'oro e grandi emozioni lontano dai soliti posti sagittario una luna che favorisce anche gli incontri specie per le persone sole venere capricciosa vi rende un po troppo remissivi volete essere conquistati più che conquistare capricorno la luna opposta è certamente pesante per il fisico ritornano a galla anche piccoli disturbi fisici evitate di arrabbiarvi e pensate al relax acquario sarà una giornata un po noiosa venere luna in congiunzione nel cancro promettono di rompere la routine con degli avvenimenti che però in qualche caso non vi faranno piacere pesci venere luna congiunti nel punto più bello del cielo vi infondono una grande carica erotica che di certo non passerà inosservata anche in questa giornata e con l'oroscopo di oggi è tutto le stelle di azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su facebook alla pagina oroscopo di azus